Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo è un video un po' sorpreso perché praticamente stamattina, che è lunedì, sono stata da Lidl per un motivo in particolare è stata un po' una cosa inaspettata ieri sera, che era domenica, ero sul gruppo, quello facebook Passione Lidl Italia, vi lascio il link giù nell'info box perché è davvero un gruppo molto molto carino e ho visto che una ragazza ha pubblicato una foto dell'espositore della PH Bio siccome comunque la PH Bio non era riportata sul volantino ho detto forse Lidl ci ha fatto una sorpresa e ha fatto uscire appunto la PH Bio senza dire niente né sul volantino né sull'app e quindi appunto sono stata proprio adesso da Lidl e ragazze da me non c'è, non l'ho proprio trovata anzi fatemi sapere anche voi nei commenti se per caso voi l'avete visto, se avete trovato i prodotti se avete acquistato qualcosa comunque vi ricordo che se volete appunto provare i prodotti PH Bio vi ho fatto veramente tantissimi video a riguardo primo è quello naturalmente sui primi prodotti che erano bagnoschiuma, shampoo, balsamo, crema a mani e sapone intimo che ve lo lascio qui sopra e poi vi ho fatto anche il secondo video aggiornamento appunto vi parlo dei nuovi prodotti ossia crema corpo, scrub, deodorante che sto provando naturalmente in questi mesi e con cui ragazze mi sto trovando molto molto bene volevo chiedervi se può interessarvi la recensione perché comunque ormai li sto provando da qualche mese e mi sono fatta un'idea ben precisa ragazze comunque se li trovate, se siete più fortunate di me vi consiglio assolutamente di provare qualcosa perché comunque sono tutti prodotti 100% biologici, naturali non contengono parabeni, siliconi, petrolati eccetera e non sto parlando dei prodotti quelli che sono entrati in linea permanente ma appunto di nuovi proprio espositori che si trovano tra le promozioni settimanali quindi non fra i prodotti Sien date un'occhiata bene io ho girato tutto il punto vendito ho chiesto anche al personale ma questo espositore insomma da me non c'è proprio vi volevo dire poi che tutte le altre promozioni di cui vi ho parlato nel video novità della settimana sono tranquillamente esposte e sono uscite tantissime cose per la casa cuscini, appendiabili, decorazioni, stile shab volevo farvi vedere però altri due acquisti che ho fatto proprio ora che sono davvero ragazzi fantastici prima cosa questo che io acquisto davvero spessissimo ossia l'infuso di finocchia di finocchia ossia l'infuso di finocchio aiuta a eliminare la sensazione di gonfiore e in realtà questo lo prendo per mamma perché a me non piace tantissimo il finocchio qui abbiamo appunto finocchio e melissa poi veramente sono stata nonostante insomma la delusione di phb io sono stata fortunata perché nel cessione delle promozioni ho trovato ragazzi vi ricordate gli occhiali da sole quelli che vi dicevo nel video no io voglio provare assolutamente quelli grandi li ho trovati in promozione anziché 5 euro e 99 4 euro e 19 io mi ricordo che l'ultima volta non sapevo se acquistarli o meno poi non li ho più visti quindi ho detto vabbè ormai sono andati lasciamo perdere e oggi vederli appunto col 30% di sconto ho deciso assolutamente di acquistarli anche perché li avevo provati e mi ricordo che mi piacquero tantissimo sia questi che quelli stile Ray-Ban adesso mi tolgo il cappello e vi faccio vedere cioè sono veramente fantastici proprio adatti soprattutto al mio visto e davvero non vedevo l'ora di provarli e di prenderli appena li ho visti tipo c'era una signora davanti e ho detto signora la prego devo prendere gli occhiali e me ne vado perché ho sempre paura che qualcuno li prenda prima di me perché comunque il prezzo è ottimo naturalmente spero che questo video aggiornamento vi sia piaciuto io vi mando un bacio grande ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di lasciarmi un bel pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video ciao